No! 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 Change, change, change. Così molestano i turisti i soliti falsi mimi che col primo maggio e con la bella stagione tornano a fare bella mostra di sé, soprattutto in piazza della Signoria. Abbiamo seguito l'attività di due false mime che sono state anche fermate dai vigili urbani, ma è servito a poco. Più che molestie sono delle vere e proprie aggressioni, sia verbali che fisiche, che riusciamo a filmare col cellulare confusi tra le decine e decine di persone intente a immortalare le bellezze artistiche della loggia dei Lanzi e di Piazza della Signoria. Le riconosciamo, sono sempre le stesse due donne che, faccia tinta di bianco, chiedono insistentemente soldi ai turisti. Change appunto. Qualcuno si lamenta con un agente della polizia municipale. Non fate niente, gli dice. Ci siete voi, ci sono i carabinieri, ma niente. Eppure quel vigile poco prima le aveva allontanate, ma loro sono rispuntate davanti agli uffizi, dove hanno continuato a chiedere insistentemente soldi ai passanti. La tattica prevede che una di loro, magari ballando, si avvicini al turista per salutare. Poi la raggiunge la collega, a mano tesa per prendere qualche spicciolo. Se non basta, si arrabbiano pure, come quando, dopo aver preso per un braccio un turista orientale in compagnia della moglie, una delle due comincia a urlare e a mostrare il ventre, sollevando la maglietta fino a quando il potenziale pollo da spennare non viene trascinato via dalla consorte, legittimamente spaventata. Una di loro venne denunciata per atti osceni, perché rispondeva a chi rifiutava le lemosine alzando la gonna per mostrare le parti intime. È capitato che si mettessero a urinare per strada, minacciando anche di gettare la pipì sulle persone. Solito copione dunque per le solite impunite.